La maglia ufficiale della stagione 2017-2018 della Regina sarà scelta dai propri tifosi, sempre più al centro del progetto Amaranto. Questa, la nuova iniziativa della società presieduta da Mimmo Praticò, volta a coinvolgere i supporters Amaranto. Il senso di appartenenza, un legame che si è instaurato fra la Regina e la città di Reggio Calabria, che spinge il sodalizio reggino a coinvolgere sempre di più i propri tifosi ed il territorio. Le quattro proposte, confezionate da Leggea su indicazione della società, raffigurano San Giorgio, patrono e simbolo della città di Reggio. Sul retro, la maglia sarà impreziosita dalla scritta in oro Orgoglio Reggino, già presente nelle passate stagioni. La prima opzione prevede una maglia dalla doppia fantasia, abbinata con pantaloncino nero. La seconda prevede i pantaloncini bianchi che richiamano il colletto ed i bordi della maglia. Un classico, la terza maglia, tutta Amaranto con pantaloncini neri. Amaranto con chiazze più chiare e pantaloncini neri per la quarta opzione. I tifosi avranno 24 ore di tempo per decidere quale maglia preferiscono e potranno votare sul sito ufficiale del club.